Il Friuli Venezia Giulia, la parola che mi sembra più critica in questo momento è popolazione. La coscienza dei luoghi, patrimonio locale, identità locale, relazioni solidarie e non geratiche, cooperazione tra i popoli. Giustizia sociale, redistribuzione della ricchezza, diminuzione dell'orario di lavoro. Secondo me il futuro può essere definito oggi con due parole fondamentali, una è cambiamento e l'altra è innovazione. I keywords for the future? I keywords for the future. So one keyword for the future is a bit of a big word, but it's economization. So another one of my keywords would be depoliticization. Ma io direi appunto questa, crescita ma investimenti pubblici. Apetuta per avere appunto questi occhi nuovi, nuovo sguardo sulle cose che già abbiamo. Non pensare che solo le cose targate USA siano quelle che ci porteranno nel futuro. Possono anche parlare Friulano. La mia prima parola chiave è austerità, ma nel senso ripensare l'austerità. La seconda parola chiave vuole essere forse un suggerimento su delle dinamiche attraverso cui ripensare l'austerità, che è la distribuzione. Le parole del futuro sono quelle del recente passato che, come dire, dobbiamo continuare a ripetere, essenzialmente innovazione e inclusione. In una parola sola, innovazione sociale. Perché ne do solamente una, per me la parola del futuro è uguaglianza. Sono sapere, conoscenza, qualità, capacità di fare qualcosa che nessuno ha ancora fatto oppure di fare qualcosa in un modo che nessuno ha ancora fatto, utilizzato. Innovazione, in una parola. La parola chiave è innovazione. Sono tre. Una è il decolo di questo forno, innovazione. Innovazione, da tutti i punti di vista. La seconda è internazionalizzazione. La terza è ineludibile, la sostenibilità. Se non abbiamo stato anche in futuro, ma secondo, probabilmente il collasso, la barbarie. Beh, ritrova il senso della misura. Siamo in una fase molto interessante, dove dobbiamo creare un sistema di distribuzione di income per il 21st century. Le mie parole chiave allora sono tempo, cittadinanza e nuovi cittadini. La parola chiave per il futuro che ci aspetta è sicuramente condivisione, in un doppio senso. Il primo è perché condividiamo tutti gli stessi problemi. La seconda ragione per cui la parola è condivisione è perché la sharing economy sta ponendo delle sfide al nostro modo di intendere l'economia. Direi movimenti sociali, aspettative, immaginari e partecipazioni. Le mie parole chiave per il futuro sono populismo e uguaglianza. Nella frattispecie un populismo per l'uguaglianza. Le parole chiave per il futuro sono sicuramente l'eguaglianza. Viviamo in un mondo di ineguaglianza grottesca, estrema. La seconda idea è l'idea di democrazia. Beh, partecipazione, condivisione, fantasia, creatività e orgoglio di voler fare. Da questo festival le parole chiave che mi sembra emergano sono quelle del ragionamento, dell'argomentazione e dell'uguaglianza. Le mie tre parole per il futuro sono opportunità, redistribuzione, ecologia. Secondo me sono responsabilità e giustizia sociale. Le parole del futuro per me sono responsabilità, merito, giovani, capacità di affrontare, di interpretare il cambiamento e non per ultima l'innovazione. La parola del futuro potrebbe essere contraria, per esempio, quando assorbiamo l'informazione, quando facciamo l'informazione, quando ci poniamo sul lavoro, nell'impresa, e se assumere un atteggiamento sempre scettico e a volte anche il rincoraggio di andare in futuro. La parola del futuro, secondo me, è la sostenibilità. La parola del futuro, secondo me, è la parola del futuro. La parola del futuro, secondo me, è la parola del futuro. Grazie a tutti.